Sì, super contente per la vittoria, è stata una partita diciamo difficile, tanti errori da parte nostra, credo il secondo set è l'ultimo, abbiamo trovato il nostro livello, invece il primo e il terzo, come ho detto, tanti errori da parte nostra, però ci vuole anche ogni tanto lottare, quindi brave noi per portare tre punti a casa. Secondo me è tanto importante perché lì comunque esce fuori la squadra, quando si lotta, quando la squadra è sotto e il gioco è insieme, credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e forte.